Ciao, sono Gianmarco, ho 21 anni, sono un bartender di Roma. Ho frequentato il corso Executive Bartender alla scuola FBS. Questo corso è la durata di circa due mesi e comprende tutti i vari aspetti del mondo del bartending, dalla caffetteria all'alta miscelazione. Mi sono trovato molto bene, soprattutto perché è un luogo molto accogliente, i trainer sono molto amichevoli, restando comunque molto professionali. La parte del corso che mi piace di più è stata la parte del flair. L'ho trovata molto divertente, però poi questa passione è andata un po' più a scemare, perché mi sono interessato in particolare al mixology. Una delle parti che ho trovato più difficili è stata sicuramente la parte riguardante la teoria, perché non credo di essere molto portato allo studio, ma grazie all'aiuto dei trainer sono affassionato sempre di più a questa parte del corso. Beh, sicuramente la passione e la preparazione dei trainer, che mi hanno fatto avvicinare molto a questo mondo, sempre con più passione. Durante il corso ho svolto diverse istanze organizzate dalla scuola, che mi hanno aiutato a non farmi trovare impreparato durante le prime esperienze di lavoro. Sì, ad oggi lavoro, ho trovato lavoro a Piazza Bologna con l'aiuto della scuola. Il locale è Bocamora, è un locale molto carino e soprattutto molto accogliente, con persone che mi hanno fatto proprio sentire a casa. Sì, come penso sia per tutti i partender di oggi è di aprirsi un mio locale in futuro. Beh, consiglierei questa scuola sicuramente perché ti dà una grossa mano, ti insegna tutto quello che c'è da sapere in questo mondo e non ti fa trovare impreparato quando si inizia a lavorare. Grazie mille!